Eccoci, ben trovati e buongiorno. Oggi ci troviamo in Alto Adige, precisamente a Riscone di Brunico. Siamo all'hotel Kronloff e siamo con il titolare signor Cesare Lorenzi. A poche centinaia di metri da noi ci sono gli impianti di risalita che portano a Plan de Corones e di conseguenza la stagione appena iniziata e diciamo ci sono tutti i presupposti per una nuova e ottima stagione invernale. La novità di quest'anno è che l'hotel Kronloff ha rinnovato completamente la sua struttura. Signor Cesare, è stato un bel investimento ma sicuramente, da come vedo io, è sicuramente un ottimo risultato. Sì, abbiamo fatto un investimento importante, è stato un restyling completo dell'hotel sia nella parte esterna e poi si è aggiunta, a dire la verità, anche una parte nuova proprio, quindi ci sono dieci camere di nuova costruzione, abbiamo rifatto il bar, abbiamo creato una parte nuova nella zona wellness, tutte cose che pensiamo diano un altro lustro alla struttura e i primi clienti che abbiamo potuto ospitare qui in hotel sono rimasti molto contenti. Ecco, quanti anni ha questo hotel? È un hotel di famiglia? Praticamente com'è la storia di questa struttura? Beh, l'hotel è nato nel 79, quindi sono 40 anni, è sempre stato gestito da... Praticamente col compleanno avete praticamente rinnovato. Esatto, sì, era arrivato veramente il tempo di fare qualcosa di importante per l'occasione. L'azienda è stata sempre gestita dalla stessa famiglia, la famiglia Micheli, e una famiglia di albergatori praticamente che adesso arriverà alla terza generazione e i risultati sono sempre stati positivi, pensiamo, anche per i clienti che hanno comunque continuato a venire a trovarci e adesso con questa struttura nuova avranno probabilmente una ragione in più per continuare a farlo. Oltre alla ristrutturazione esterna che ha cambiato completamente il volto della struttura, qual è, diciamo, l'elemento portante, qual è il cambiamento più forte che ha avuto l'hotel? Beh, diciamo, si sono aggiunte 10 camere nuove e quelle sono una parte importante, appunto hanno avuto una parte importante in questa ristrutturazione, sono camere anche di design curate anche con i materiali, eccetera, ha fatto un lavoro molto importante l'architetto che ha curato tutto il progetto ed in più si è aggiunto la parte del wellness che esisteva già prima, sauna, bagno turco, la piscina coperta, però abbiamo aperto una parte proprio che sarà dedicata al beauty e ai massaggi, abbiamo preso del personale qualificato che si occuperà di questa cosa a tempo pieno praticamente ed è quindi per noi ecco una novità se vogliamo e ci puntiamo molto. Parliamo di cucina, di piatti e di ristorazione, dunque voi avete una cucina con una presentazione dei piatti molto ricercata, mantenete sempre questa filosofia? Sì, sì, la manteniamo, anzi cerchiamo di svilupparla ancora, abbiamo una brigata di cucina giovane, uno chef giovane, però ha portato idee nuove, è molto attento nella cura delle materie prime, è molto attento a voler fare tutto di prima persona, quindi dalle paste fresche, ravioli, eccetera, e anche la presentazione dei piatti è particolare, è molto apprezzata dalla nostra clientela, pensiamo che in un hotel che è situato a Riscone, in Pusteria, in Alto Adige, comunque sia necessaria questa cosa, l'Alto Adige è diventato un po' sinonimo di buona cucina negli anni, ci sono tanti ristoranti stellati anche qui in zona in Pusteria, e pensiamo che chi ami mangiare con qualità, mangiare bene, lo possa fare anche da noi. Ecco, la location, la location è importante perché siamo ai piedi di Plande e Corones, qual è il vantaggio di essere a Riscone di Brunico? Sì, Plande e Corones naturalmente per la stagione estiva è la cosa principale, nel senso che essere qui a 600 metri dalla partenza degli impianti è un grande vantaggio naturalmente, però Riscone è un punto di partenza ideale anche nelle altre stagioni, siamo a 5 minuti di macchina da Brunico, Brunico è diventata una cittadina interessante, che offre molto anche dal punto di vista dello shopping, eccetera, quindi si possono sicuramente abbinare le due cose, e poi anche d'estate è appunto ideale per la partenza di qualsiasi escursione, perché con 20 minuti di macchina praticamente si arriva in qualsiasi luogo di interesse che c'è qui in Pusteria. Certo. Bene, a questo punto vogliamo invitare i turisti e le persone che sono a casa e ci vedono a venire qui a Riscone di Brunico all'hotel Cronloff, ci dà i numeri dati per poter contattarvi e poter eventualmente prenotare o chiedere informazioni. La mail è hotelchiocciolacronloff.com, il telefono invece è 0474 410394, oppure il sito internet è anche www.cronloff.com. Perfetto, vi aspettiamo a Riscone di Brunico.